Come può lo scoglio arginare il mare, anche se non voglio torno già a volare Le stese azzurre e le verdi terre, le discese ardite e le risalite Sono al cielo aperto e poi giù il deserto Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, Lucio Battisti in questo maggio speciale, in questo sabato del 2022 Abbiamo ascoltato Pietruccio Montalbetti, ci ha raccontato un po' gli inizi, i lati anche più nascosti dei Lucio Battisti Abbiamo un gradito ospite, Guido Guglielminetti Un musicista di primordine Un musicista, produttore, autore e braccio destro di Francesco De Gregori Guido, benvenuto, grazie per essere con noi Ciao Gino, buongiorno e grazie per avermi invitato E un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Venere Benvenuto maestro, salve Allora, Guido, con te mi piacerebbe riportarci un po' a quell'atmosfera In cui tu eri ventenne, insomma, musicista Non vorrei dire alle prime armi perché avevi avuto già altre esperienze Però, insomma, chiamato per suonare nell'album e il mio canto libero di Lucio Battisti Che emozioni sentivi? Eh sì Ma guarda, io Infatti in quel periodo, era praticamente 1970 Io facevo parte di un supergruppo Supergruppo perché era composto da tanti elementi Che accompagnava un cantante che allora aveva grande successo Cantante di origine libanese Patrick Samson Sì, sì, sì E uno di noi Venne a conoscenza del fatto che alla numero uno Avevano la casa di Lucio Battisti La casa discografica Facevano delle audizioni Per avere un gruppo che avesse la nostra conformazione Per realizzare l'album di un cantante esordiente Trammo alla fine fummo presi E realizzammo il primo album di Adriano Papalardo Che appunto si intitolava Adriano Papalardo Fu un grande successo Infatti ancora giorno È stato un grandissimo successo In quell'occasione Conobbi appunto Lucio Battisti Il quale già stava lavorando Al suo album Infatti al basso Per un pezzo c'era Bruno Longhi Per un altro anche El Salvador Io comunque subentrai E alla fine rimasi Per tutta la lavorazione del disco Per me appunto Come sottolineavi tu Per me allora a 19 anni Puoi immaginare Come Che tipo di esperienza Che emozione Potesse essere Partecipare alla lavorazione Di un album del genere Oltretutto Oltre a me c'erano Grandissimi musicisti Quindi per me fu veramente Un'esperienza Che ancora ricordo Con grande emozione Maestro possiamo dire che Questa sua grande carriera Comincia da lì Poi no? E collaborazioni Fossati Tozzi Mia Martini Ma cosa rendeva La mia domanda è questa Cosa rendeva così avanti Ecco lei forse da musicista Può dircelo più di altri Cosa rendeva così avanti Così speciale Lucio La sua musica? Ma guarda Per quanto riguarda Il mio modo Di vedere le cose Come musicisti Come musicista Sicuramente La sua Grandissima sensibilità Musicale E la sua Anche capabilità Cioè lui era Comunque una persona Che Metteva Grandissimo impegno Nelle cose Che faceva Era sempre molto Concentrato E Quindi Riusciva A Esprimere Le sue Emozioni Che Inevitabilmente A questo punto Alla gente Non potevano Che arrivare Certo Ma quella seduta Guida Allora si registrava In diretta Praticamente Non è come oggi Che ognuno si registra Il suo strumentino Anche a distanza E poi Il tecnico Fa tutto E Come si faceva A realizzare Proprio grazie A questa meticolosità Pontigliosità Di Lucio Battisti Ma guarda Dal punto di vista Tecnico Io ricordo Che appunto Eravamo In questo grande studio La fonorama Di Milano Ed Eravamo Tutti i musicisti Separati Da queste Gabbie Acustiche Con Ognuna delle quali Aveva un vetro Per poterci Vedere Io ero L'unico Fuori dalla gabbia In quanto Suonando il basso Non E suonandolo In diretta Non Avevo problemi Che il mio suono Potesse interferire Con il suono Degli altri strumenti E Quindi Sì C'era Un contatto Visivo E Non era Un lavoro facile Perché Perché Comunque Lucio Giustamente Aveva Metteva Nelle sue Canzoni Dei Dei Respiri Delle pause Che noi Tutti Dovevamo cercare Di assecondare Cercare Di seguire E' stato Un lavoro Molto Molto Bello Difficile Da quel punto di vista Lì Però Ti devo confessare Perché sinceramente Un po' di nostalgia Per questo modo Di lavorare Ce l'ho Perché Ricordo Che Durante la lavorazione Spesso io Avevo la pelle d'oca Per l'emozione Comunque Che Lucio Riusciva A trasmettere In questo modo Molto bello Quello che stai dicendo Qui Davvero E oggi abbiamo bisogno Di questo contatto Insomma Speriamo Che con Il ritorno Ai concerti live Ci sia Questa possibilità Almeno tra pubblico E musicisti Di ricollegare Di nuovo La spina Dell'empatia Dell'emozione Guarda Ti dico Io Oltretutto In questo periodo Ho la fortuna Ormai Da tanti anni Di collaborare Con Francesco De Gregori Che comunque Continua A mantenere Questo tipo Di approccio Nella sua musica Certo Non usiamo Supporti Elettronici E per dire Dal vivo Tante volte Le cose Da una volta All'altra Possono cambiare Sul momento E con il tempo Il pubblico Ha imparato Ad apprezzare Questa cosa Perché quando viene Ai concerti Non sa Nessuno di noi Sa Che cosa Succederà Perché a seconda Dell'atmosfera Che si crea Sul palco Le cose Vengono sviluppate E quindi Io Considero Questa Una grande Grande fortuna Che ci sia Ancora Questo modo Di interpretare La musica Sì I progetti Su cosa Stai lavorando Adesso Ci aggiorni Un po' Su Allora Guarda Per quanto riguarda Appunto L'aspetto musicale Adesso A parte Il fatto Che dobbiamo Recuperare Alcuni concerti Che non abbiamo Potuto fare Che abbiamo Già rimandato Mi pare Almeno tre volte E quindi Li faremo A breve Verso Fine aprile E poi Stiamo lavorando A questo Tour Che partirà Da Dal 18 giugno Allo stadio Olimpico Di questa Reunion Di Antonello Venditti E Francesco De Gregori E sarete Anche a Lecce Guido Sarete anche a Lecce Con Io prevedo Un sold out Perché anche Le richieste Che stiamo avendo Insomma Noi siamo Venditori Punto vendita Dei biglietti E quindi Vediamo C'è molto interesse Anche sui social C'è un'attesa Ormai si è creata Grandissima Rispetto a Questo progetto E' un evento Importante Perché comunque Sono due grandi artisti E Quindi E' normale Che questo Che questo sia Quello Questo interesse Ci sia E poi comunque C'è anche da parte Di tutti La voglia Di ripartire Eh sì Divertirci un po' Di rasserenarci un po' Di uscire anche Da questo Da questo momento Buio che stiamo Attraversando Dopo il covid Anche quest'altra Faccenda Infatti Infatti Per quanto riguarda Me personalmente Questa esperienza Da un certo punto di vista È in un certo senso È in un certo senso Nuova Perché Per quanto riguarda Questo tour Io mi occuperò Del coordinamento musicale Sono Siamo tanti musicisti Sono tanti musicisti Io questa volta Non sarò sul palco Ma sto Occupando Sto occupandomi appunto Del coordinamento Perché Quando si è tanti Così Serve la tua figura È importantissima Perché appunto Ma sì Sai Io con De Gregorio Ho sempre fatto un po' Quello che lui dice Il capobanda Però c'è stato Un altro progetto Di questo tipo In passato Con Quel bloc alchimia Mi pare Era un progetto Con Ah beh sì Quello è stato Sì è stato Uno spettacolo Vabbè Quello era più Incentrato Sulle Sui miei pezzi Su di me Era una cosa E beh è stata Un'esperienza Anche quella Molto Molto interessante E poi Mi sto Occupando Della Realizzazione Del mio Secondo libro E Anche questa È una cosa Che mi Che mi Interessa Mi piace Molto Perché in seguito Alla scrittura Del primo Che è nato Quasi Quasi per gioco Ho scoperto Andando in giro A presentare il libro Ho scoperto Quanto Le persone Potesse Interessare Il mio lavoro I miei trascorsi Insomma E quindi Adesso sto lavorando A questo Fra l'altro Con l'aiuto Di una Giornalista Traduttrice Molto importante Perché Figurati che Lei ha Tradotto I libri Di Noam Chomsky Uno dei Più Grandi Filosofi Contemporanei Ed è di Lecce Fra l'altro Valentina Nicolì Con la quale Io sto Appunto Sto lavorando Sono molto contento Di questa cosa Insieme Stiamo scrivendo Questo Secondo libro Uscita prevista Guido? Ah Preferisco Non fare Previsioni Perché purtroppo Abbiamo Finora abbiamo Lavorato anche Con una certa Difficoltà Perché comunque Abbiamo lavorato A distanza E quindi Speriamo Perché Gino Vuole opzionare Già il prossimo Appuntamento Per quello Ha chiesto Speriamo Speriamo Di sentirci Di vederci Al limite Anche nella data Di lecce Insomma Che sia pronto Per avere anche Modalità Modo di Sentirci E fare qualcosa Per la rata Magari Fosse pronto No Io Io E io E Valentina Preferiamo Prendere I nostri tempi Per fare le cose Per bene Giustamente Per fare le cose Per bene Io poi Fra l'altro Oltretutto Io sono Particolarmente Legato a Lecce Perché ho Un sacco Di amici E ho anche Casa lì E quindi Mi ha Mi ha Sorpreso Pacevolmente Questo vostro invito Anche perché Appunto Sono Sono legato A Lecce Ah che bello E quindi Mi fa Mi fa piacere Insomma Certo Siamo molto Legati a te Guido E ricordo Anche quell'incontro Abbiamo avuto Insomma Veloce A Presicce No Anni fa Per il concerto Di De Gregori Bene Ti aspettiamo Allora nuovamente Speriamo Insomma Di incontrarci Di parlare Di cose belle Di musica E di libri Come no Ti ringraziamo Per questa tua Disponibilità Guido Grazie Maestro Alla prossima Grazie Ciao 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 Ciao